ma che figata to good to go ad amsterdam ciao sono daniele per gli amici subri e oggi voglio raccontarvi la mia esperienza con to good to go in olanda ma prima di farlo ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno io lo sapete adoro to good to go innanzitutto perché sì in effetti si risparmia un bel po con le box non tutte ma molte sì e poi soprattutto perché si fa del bene al pianeta ogni volta che si compra una box salvando del cibo che altrimenti andrebbe buttato beh ovviamente la risparmio ad amsterdam è molto forte è una città carissima però queste box permettono un risparmio sì ci sono box dai prezzi un po strani che andremo a vedere tra poco ma vi assicuro che mangiando con le box ad amsterdam si risparmia veramente un sacco di soldi sono andato ad amsterdam per il twitch con e sono partito il 14 luglio da milano con arrivo il 15 ad amsterdam per poi ripartire il 18 con ritorno a milano il 19 mattina mi è dispiaciuto veramente tantissimo non poter rimanere una settimana intera ad amsterdam e soprattutto non aver trovato una casa con anche cucina annessa altrimenti l'esperienza sarebbe stata over the top ma partiamo dall'inizio anche qua prima tappa con to good to go dove a milano il 14 infatti da cunio mi sono fatto il viaggetto fino a milano e poi ho pensato ma perché non iniziare con to good to go a far pranzo già oggi ero molto a nord di milano quindi non avevo grossissime aspettative su box magari particolari però ho voluto comunque fare una ricerca notando che da lì a breve sarebbe scaduto il ritiro del forno penati in via giuseppe rovani 143 ho quindi immediatamente ordinato da box e l'ho fatto praticamente davanti alla panetteria mi sono preso anche un bel rischio perché il locale era senza recensioni quindi possono capitare due cose numero uno che il locale dia tantissimo cibo per farsi buona pubblicità numero due che il locale dia poco e niente cibo perché non ha capito il senso dell'app magari cose che non raggiungono neanche il valore che dovrebbe esserci proprio all'interno di una box conscio del rischio quindi sono entrato nel locale e pagato 4 euro e 99 per questa box ma non ho pagato i 50 centesimi perché al momento dell'ordine in effetti c'era scritto ti verranno adebitati dal locale 50 centesimi per il sacchetto in realtà così non è stato mi sono quindi seduto su una panchina lì vicino ed ho osservato affascinato il contenuto della box c'erano più di 10 panini due pezzi di focaccia una pizza grossa rotonda e una pizza più piccolina purtroppo non ho fatto foto e video più specifici e non ho fatto neanche un commento in diretta perché sono stato molto preso dal grosso problema che ho avuto per il viaggio ad amsterdam mi è stato cancellato il mezzo di andata quindi mentre mangiavo ho dovuto correre ripari e prenotare qualcos'altro altrimenti non sarei potuto partire però mi sono rifugiato in un centro commerciale lì vicino per fare un po di spesa e unirla a questa box ho comprato quindi un'insalata un po di prosciutto e un po di formaggio e ho mangiato quella sera lì le focacce con prosciutto e formaggio focacce un po secche ma nel complesso buone dopodiché per più avanti la serata e anche per la colazione del 15 mi sono mangiato i panini con prosciutto e formaggio insalata panini decisamente buoni ovviamente grazie a questa integrazione con la spesa la box mi è bastata per un giorno e mezzo quindi super approvata una volta arrivato ad amsterdam ho aperto l'applicazione ed ho notato tantissime box presenti negli store più disparati ma ho voluto deliberatamente lasciare stare i vari starbucks ed hunking visto che non sono proprio tipici del luogo e dopo aver messo il filtro sull'orario mi sono accorto di poter prenotare una broad box non lontano dall'hotel che avevo prenotato vicino alla stazione centrale ero principalmente ad amsterdam per il twitch con quindi non potevo ritirare le box quando volevo in genere o la mattina prima di entrare all'evento o la sera una volta uscito quindi il 15 ho terminato definitivamente panini prosciutto insalata presi con la box di milano mentre il 16 sera ho prenotato una box in questo supermercato della catena albert e jean ed un'altra box da hema sempre supermercato ma questa volta alla stazione centrale c'era veramente l'imbarazzo della scelta e mi sono basato innanzitutto sulle recensioni che fossero il più alte possibile e poi sull'orario di ritiro dopo le 19 ma avete visto che prezzi strani ci sono in olanda non avevo mai visto in italia delle box da 3 euro e 50 oppure 5 euro giusti precisi a ovviamente non sono rimasto a digiuno dal 16 mattina fino alla sera quando ho preso la box ma avevo colazione compresa in hotel altrimenti avrei cercato qualcosa da prendere anche prima finito l'evento quindi sono ritornato verso l'hotel e mi sono fiondato alla stazione cercando ovunque questa catena hema ma non sono riuscito proprio a trovare il negozio per fortuna sono riuscito a trovarlo ma su instagram vi ho spoilerato che cosa è successo comunque mi si è raggelato il sangue perché non avevo idea di dover entrare nella stazione e avevo paura di aver fatto una stronzata ma un ragazzino mi ha salvato e mi ha fatto entrare lo stesso anche se non potevo entrare ma ve lo racconterò meglio in un video quindi che cosa è successo ho vagato per tutta la stazione senza riuscire a scoprire dove era questa catena per poi accorgermi che era dall'altra parte dei tornelli e quindi avrei dovuto fare apposta un biglietto del treno per andare a ritirare la box ho provato ad accedere con il mio abbonamento della metro ma non mi faceva passare e quindi ho chiesto informazioni a uno dei tanti addetti che c'erano proprio per dare assistenza a tutti quelli che avevano difficoltà a entrare o uscire dai tornelli della stazione ovviamente lo sapevo che il mio abbonamento della metro non avrebbe mai funzionato per i treni che andavano fuori amsterdam però ho cercato il ragazzo più giovane e ho provato a fargli un po di compassione dovevo solo ritirare questa box beh dai alla fine ha funzionato e ne sono rimasto molto contento ragazzo stra gentile che mi ha fatto presente il fatto che non potessi passare con l'abbonamento della metro ma serviva proprio il biglietto del treno e mi ha detto non preoccuparti se devi solo andare a prendere la box vai pure ma mi raccomando ti aspetto poi qua tra poco sono quindi entrato in questo store che aveva un po di tutto articoli per la casa cibo fresco articoli di make up e un sacco un sacco di altra roba e infatti lì per lì mi è salito un po di panico ho pensato oh mio dio e adesso che cosa mi daranno da mangiare o mi daranno anche in mezzo articoli che non c'entrano nulla col cibo mentre aspettavo la commessa che si sarebbe occupata della mia box preparata poi al momento ho notato anche un frigo un po povero di articoli ma che erano tutti scontati e ho capito che era una sorta di giorni contati e lì mi sono messo le mani nei capelli che non ho pensando ma in questo frigo praticamente non c'è più nulla se per 5 euro mi danno due panini in croce sono veramente rovinato in realtà la ragazza ultra gentile disponibile ha prima fatto lo scontrino per poi iniziare a mettere un sacco un sacco di cose nella box partendo da un pezzo che era in quel frigo e tutto il resto prendendolo da altri settori del negozio posso riassumervi questa box con un'unica parola wow mi sono subito recato in hotel a fare un unboxing e all'interno della box ho trovato una baguette ripiena un thai wrap uno dei panini che appunto era nel banco frigo un sacchetto con due cornetti e due panini un risotto che all'inizio avevo scambiato per un'insalata e una salsa per hot dog visti i prezzi del locale sono rimasto veramente stupito di tutta questa roba ma non c'era tempo per cazzeggiare dovevo andare a ritirare l'altra box che mi aspettava a due minuti precisi dall'hotel sono quindi arrivato in questo mini supermercato che mi ha ricordato veramente tantissimo i 7-eleven visti in giappone ad amsterdam ci sono veramente un sacco di negozi con questo logo qui infatti entrando su too good to go ho notato che c'erano veramente tanti store con lo stesso logo ma che offrivano allo stesso tempo box diverse praticamente è una catena di supermercati che si chiama albert heijin o comunque penso si dica così vi lascio il nome qui poi vedete voi come pronunciarlo ed è stata fondata nel 1887 e adesso si trova non solo nei paesi bassi ma anche in altri paesi del nord e praticamente sì ad amsterdam ce ne sono veramente un sacco anche qui prima mi sono fatto un giro per lo store molto piccolino ma ben fornito con le casse automatiche ed i commessi che erano solo lì praticamente per caricare gli scaffali e dare assistenza anche qui sono rimasto molto colpito dal servizio tutto automatizzato veramente fantastico con anche i forni a microonde per poterti scaldare ciò che compri veramente mi ha ricordato il giappone e sono rimasto quindi stupito dall'automatismo ovviamente non c'era tempo da perdere preso la box sono corso in hotel a fare l'unboxing all'interno ci ho trovato un cornetto al cioccolato un altro cornetto più un panino piccolo diversi pezzi di pizza o per chiamarli come li chiamano loro avogaccia margherita ed altri croissant più un paninetto piccolo con dei semini e per finire un altro wrap con però disegnato questa volta il pollo se primo ho detto wow qua veramente sono saltato dalla sedia per 3 euro e 50 una box con quattro cornetti quattro pezzi di pizza o per meglio chiamarli avogaccia margherita due paninetti e un wrap al pollo wow veramente veramente tanta roba e i prezzi dietro erano presenti qua altro che 3 euro e 50 per 3 già solo con i quattro cornetti e quattro pezzi di pizza superavamo di gran lunga il valore dei 3 euro e 50 per 3 ma c'era anche da testare il sapore beh per testare il sapore in un paese straniero bisognerebbe inquadrare con google lens e capire che cosa contiene il prodotto secondo voi l'ho fatto no mi sono voluto sì gustare la sorpresa premetto che mangiare e filmare dentro la camera d'hotel è stata veramente un'impresa purtroppo non ho potuto portare la fotocamera quindi mi sono portato solo dietro il telefono e mi sono scordato il microfono quindi alla fine vi commenterò le riprese perché ho scoperto che il microfono ha captato l'audio più impensabile tra rumori della strada e rumori dei vicini distanza ho quindi iniziato a mangiare tutte quelle cose che arrivavano dal frigo iniziando dal tie wrap quello trovato nella prima box che era fondamentalmente diviso in due la prima parte sapeva veramente tanto di curry sapore decisamente troppo invasivo mentre la seconda parte era un po più fresca ma comunque non facile da mandare giù dopo questo wrap ho dovuto bermi un litro e mezzo d'acqua perché mandare giù tutta quella roba non è stato semplice successivamente ho provato il panino sempre della prima box che la commessa aveva preso nel frigo che avevo addocchiato all'ingresso buono ma non c'era nessuna etichetta con gli ingredienti all'esterno quindi dopo avergli dato un morso l'ho letteralmente aperto per capire che cosa ci fosse all'interno e conteneva prosciutto pomodori cedriolo e uovo sodo direi bene ma non benissimo potrei essere allergico a qualsiasi tipo di alimento quindi magari scrivere gli ingredienti qua non sarebbe stato male comunque sempre oggetti derivanti dal frigo ho dovuto mangiare e ho provato il secondo wrap questa volta devo ammetterlo decisamente meglio rispetto ai precedenti all'interno c'era del pollo della salsa caesar lattuga e pancetta gusti molto strani al nord lo so però direi che nel complesso può andare tutto contento e abbastanza sazio volevo avvenarci il dolce ed ho azzanato un bel cornetto per poi scoprire che all'interno non era dolce ma aveva del formaggio e prosciutto buono anzi buonissimo ma io volevo il dolcino il brutto è arrivato quando ho scoperto che quello che avevo scambiato per insalata in realtà era un risotto ed insieme alla baguette ripiena in teoria dovevano essere scaldati o comunque cotti quindi praticamente mi sono ritrovato alla fine tre pezzi che non avrei potuto consumare e che cosa posso fare io con questo risotto nulla perché grazie google traduttore che mi viene in aiuto qua dietro c'è scritto che va prima scaldato come prima scaldato ci sono i pomodori freschi come scaldato vabbè questa ci potevo arrivare anche prima non l'ho visto 200 gradi 9 minuti in forma va scaldato anche questo yeee no non va bene quindi io di queste tre cose o giù i reception mi fanno scaldare questo e quello oppure non posso mangiare alla fine purtroppo non sono proprio riuscito a mangiarli e ho deciso di unire a questi tre articoli un panino e regalarli a chi avesse avuto veramente fame o comunque bisogno di mangiare sì si potevano anche scaldare o comunque cucinare questi articoli come vi ho fatto vedere in precedenza negli store dotati di microonde ma ormai erano chiusi onestamente non mi va molto di riprendere queste scene infatti mi sono ottenuto il cellulare in tasca e mi sono fermato un po a parlare con diverse persone che fuori dalla stazione stavano chiedendo l'elemosina anche per privacy rispetto nei loro confronti ho incontrato una famiglia che in effetti mi ha confessato di avere una casa ma facevano fatica ad arrivare a fine mese mi sono appurato che quindi potessero scaldare e cucinare quelle cose e soprattutto gli ho fatto presente che gliele stavo regalando perché le avevo trovate in una box di too good to go erano in scadenza e non avrei potuto consumarle perché non avevo modo appunto di cucinare sono stati contentissimi e mi hanno ringraziato molto la sera stessa una volta tornato in hotel ho prenotato la box per il giorno successivo in uno store che forse conosciamo anche in italia la mattina successiva quindi prima di entrare al twitch con mi sono recato a ritirare l'ultima box dove alla coop ho notato che davanti al rai di amsterdam dove all'interno appunto c'era il twitch con c'era lo store della cop e si poteva ritirare una broad box già alle 10 di mattina e quindi ho pensato beh perché non provare la cop qui ad amsterdam no diciamo che non è come in italia però il senso è lo stesso infatti è stata fondata nel 1891 e prende il nome proprio dagli aspetti cooperativi della società ma la sorpresa più grossa è stata proprio la box ho fatto un bel giro all'interno del negozio per capire dove fosse il reparto pane visto che dovevo ritirare appunto una broad box e mi aspettavo diciamo una box un po come quella che avevo ritirato in precedenza anche quella si chiamava broad box beh non è stato proprio così infatti la commessa si è messa a scansionare buste e buste e buste e più sparava questi codici a barre e più a me salivano i sudori freddi sì alla fine mi hanno dato una box con tanto tantissimo pane ma io non potevo entrare al twitch con con tutto quel pane quindi sono corso in hotel ho sparso il pane per tutto il letto per rendermi conto di quanto ce ne fosse e ce n'era veramente un sacco alla fine quindi ho lasciato tutto il pane in hotel e mi sono recato al twitch con con qualcosa che avevo trovato nella seconda box ovvero quattro pezzi di pizza più un cornetto tra un pezzo di pizza e un cornetto un altro pezzo di pizza e un'altra focaccia o meglio un altro pezzo di pizza ho spazzolato tutto il pranzo in questo caso non ne sono rimasto proprio soddisfatto perché il cornetto purtroppo era al burro e non ho capito era un misto di dolce salato che non ho ben identificato magari ci sarebbe stato dentro bene qualche cosa tipo prosciutto formaggio insalata non lo so comunque la cosa meno buona purtroppo era proprio afogaccia margherita perché le riprese sono un po viola e blu perché ero all'interno dell'arena ma vi assicuro che dentro era proprio cruda e boh non lo so c'è veramente di meglio questa era molto unta e poi all'interno cruda non lo so non mi ha proprio soddisfatto la sera stessa onestamente non avevo molta fame ed ho deciso di provare innanzitutto un cornetto che mi aspettavo dolce ma in realtà anche questo era il formaggio ed è comunque stata una bella sorpresa perché il sapore non era affatto male e poco dopo ho mangiato quello al cioccolato questa volta ne ero proprio sicuro questo era dolce e in effetti sapore del cioccolato un pelo chimico ma buono siamo arrivati quindi al giorno della partenza e innanzitutto colazione l'ho sempre fatta in hotel ma dovevo ancora fare il pranzo di quel giorno lì la cena e soprattutto avrei voluto fare anche la colazione del giorno successivo con il mio arrivo in italia e quindi ho cercato innanzitutto per pranzo un bel posto all'ombra perché il caldo iniziava a farsi sentire dove ho mangiato i cornetti della prima box che anche qui erano anonimi quindi anche volendo google lens questa volta non lo potevo utilizzare il primo alla fine era un normalissimo cornetto vuoto nulla di che il secondo invece aveva un aspetto un po diverso e pensavo fosse un cornetto salato ma in realtà dentro era proprio pane considerando quindi che quel cornetto non era proprio il massimo mangiarlo così e soprattutto contando che quello che avevo da finire escludendo le tonnellate di pane che avevo in cassetta era tutto pane panini e quant'altro ho deciso di fare una spesa molto alla veloce alla despar prendendo del prosciutto e del formaggio da mangiare con quello che avevo rimasto proprio delle box in viaggio mi sono mangiato quindi i vari panini con prosciutto e formaggio buoni ma nulla di che e l'ultimo cornetto anonimo anche questo salato e non dolce della serie i consigli di subri usate google lens quando è scritto in inglese ed è scritto in tedesco olandese o qualsiasi altra lingua che non conoscete così capite bene che cosa c'è all'interno stavolta ho fatto di nuovo una mezza cagata ma alla fine tutto per il meglio vi ricordate quel panino che aveva sopra i semini bene all'interno che cosa ci ho messo prosciutto e formaggio ho dato un bel morso e ho scoperto che quella sopra era uvetta e questo era un panino dolce vabbè buono lo stesso fermi tutti manca il pane e che cosa ne ho fatto di tutto sto pane come prima cosa devo ammettere che è stato faticoso ma l'ho portato a casa non ho idea di come si è entrato in valigia è arrivato un pelo schiacciato ma è arrivato tutto il pane che mi hanno dato in quella box oltretutto appena arrivato a casa l'ho immediatamente tirato fuori dalla valigia l'ho pesato ed ho scoperto che erano praticamente tre chili e mezzo di pane e non pan bauletto o quelle cose confezionate ma era pane proprio fatto dalla panetteria della cop tedesca alla fine non sapendo cosa farvene di tutto quel pane ho deciso di dividere quello bianco da quello integrale perché io alla fine bene o male quello integrale lo mangio anche nella mia dieta preferisco la pasta però quello integrale sì quello bianco è una vita che non lo mangio più ed ho deciso anche qua di fare un regalo a mia madre ti ho portato un regalo dall'olanda e un po di pane perché sì alla fine mio fratello che pensa che abbia riportato a mia madre un po di maria è stato il top ma la mia esperienza con to good to go ad amsterdam finisce qua direi super esperienza veramente contento e soddisfatto la prossima volta spero innanzitutto di stare una settimana così faccio vivere una settimana ad amsterdam con to good to go e soprattutto spero di riuscire a prendere una casa che abbia anche la cucina e mi raccomando questa volta userò google lens prima di mangiare ciò che trovo lo sapete che le mie esperienze con to good to go non finiscono qua vi lascio una playlist con tutte le box provate fino ad ora insieme ad un video consigliato direttamente da youtube per voi quindi non avete più scuse qualche altro mio video lo dovete per forza vedere ma non dimenticatevi che in descrizione ci sono tutti i link ai miei social network ciao alla prossima mangiata